Buon pomeriggio, sono Laura Rossi, lavoro nella redazione umanistica della Scuola Superiore di Secondo Grado di Mondadori Education ed è con un vero piacere che oggi inauguriamo il nostro secondo ciclo di conversazioni di storia insieme a Federico Rampini e Roberto Roveda. Buonasera a entrambi, buonasera Federico, vado in ordine alfabetico in diretta da New York. Sì, qui è mattina, ma buonasera a voi da New York. Federico Rampini, non servono presentazioni, ma comunque le facciamo, è un giornalista, per moltissimi anni corrispondente di Repubblica, da qualche anno invece è firma degli editoriali del Corriere della Sera, è un testimone privilegiato dell'attualità internazionale, esperto di geopolitica, autore di numerosissimi saggi. Mentre invece in diretta da Milano abbiamo Roberto Roveda. Buonasera Roberto. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, buonasera Laura. Roberto è un storico, medievista in particolare, e soprattutto è un grande divulgatore di storia, è autore di saggi, di numerosi articoli e di tanti contributi su Focus, Limes, Medioevo, appunto volti a divulgare la storia presso il grande pubblico, ma anche una lunga storia personale, professionale nel mondo della scolastica, è autore di manuali scolastici, è collaboratore anche di tante opere per la scuola e insieme a Federico Rampini ha firmato per Mandatore Education due corsi di storia per il biennio. L'anno scorso abbiamo avuto il debutto di primo piano geostoria, corso di geostoria per i licei, a cui quest'anno ha seguito invece il corso di storia, solo a storia ma sempre per il biennio, intitolato Oggi Storia. Quindi siamo qui oggi pomeriggio con i nostri autori, abbiamo tre appuntamenti in programma, come ne avevamo tre l'anno scorso, quindi iniziamo oggi queste conversazioni a due voci. L'anno scorso a condurci era, se vogliamo, un po' un filone geografico, abbiamo cominciato il nostro viaggio fra Oriente e Occidente, abbiamo poi toccato il Mediterraneo e abbiamo concluso con l'Europa. Quest'anno invece seguiamo un taglio apparentemente più tematico, temi molto molto caldi, molto molto attuali, ma sempre letti in prospettiva storica e ottica ieri e oggi. Oggi l'energia, vi annuncio già che il 20 marzo abbiamo il nostro secondo incontro, intitolato Siamo ancora in grado di padronggiare la tecnologia, e infine ad aprile, appuntamento al mese, 17 aprile per l'esattezza, l'economia siamo noi. Quindi energia, tecnologia ed economia sono le tre parole, il filo conduttore delle chiacchierate di quest'anno. Ma prima di lasciare la parola ai nostri relatori, alcune informazioni pratiche. Io vi prego durante il webinar di postare le vostre domande agli autori direttamente nella chat di YouTube e poi alla fine sceglieremo quelle che riusciamo a trattare. Ovviamente gli autori lasceranno spazio per la discussione. Vi ricordo anche che l'attestato di partecipazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della Casa Editrice alla pagina Attestati, dove troverete anche le slide che vedrete durante il webinar. Per chi non si è riuscito a collegare adesso alla diretta e vedrà invece il webinar indifferita, non sarà possibile ricevere l'attestato se il collegamento avviene dopo la mezzanotte di oggi. Ma in ogni caso il webinar viene registrato e la registrazione resterà disponibile sempre sul nostro canale ad scuola di YouTube, allo stesso indirizzo di adesso. Quindi vi invito veramente a fare tante domande e lascio subito la parola a Federico e a Roberto. A più tardi. Grazie mille Laura. Io intanto rinnovo i miei saluti a tutti i docenti collegati, ai docenti e alle docenti. Nel momento in cui abbiamo pensato a questo percorso, io e Federico Rampini ci siamo interrogati su quali potessero essere dei temi che unissero insieme storia e attualità. Abbiamo pensato a energia, tecnologia ed economia perché sono parole chiave per interpretare a nostro parere il passato, ma anche ci danno la possibilità per avviare delle riflessioni molto interessanti sul nostro presente e magari sul nostro futuro. Oggi ci dedichiamo all'energia, un tema che noi incontriamo abitualmente sulle pagine di qualunque media e su cui riflettiamo giornalmente, il tema dell'energia, scarsità di energia, aumento dei costi dell'energia, sostenibilità dell'energia. La domanda è, gli antichi o gli uomini medievali che noi abbiamo incontrato scrivendo il nostro libro di storia, Oggi Storia, si ponevano gli stessi problemi? Se li ponevano in una prospettiva che probabilmente era diversa da quella che conosciamo noi. Noi abbiamo bisogno di enormi quantità di energia per alimentare le nostre industrie, le nostre case, la nostra vita, ogni marchi ingegno che accompagna la nostra esistenza. Gli antichi non avevano problemi di questo tipo, ma ne avevano altri e li affrontavano con le risorse energetiche che avevano a disposizione. Sembra banale dirlo, ma la prima risorsa energetica a cui fecero ricorso i nostri antenati è sicuramente la forza muscolare. La forza muscolare che è quella degli esseri umani, che la utilizzavano chiaramente per trasportare pesi, per costruire, per manovrare gli attrezzi nei campi e poi cercarono intorno a loro delle prime fonti energetiche alternative, più potenti, che risolvessero una serie di problematiche. Dovettero fare i conti con ciò che la natura metteva a disposizione e con la loro anche scarsa capacità di modificare la natura. Perché se è vero che l'uomo, l'essere umano, diventa quello che noi conosciamo nel momento in cui prende una pietra e comincia a scheggiarla, la trasforma in una punta di lancio o in un coltello, è anche vero che la forza muscolare ha dei propri limiti e la capacità di incidere sull'ambiente e anche sulla materia era limitata. Quali erano queste prime forme di energia? Le prime forme di energia, quindi la forza muscolare dell'essere umano, la forza muscolare degli animali, che cominciarono a essere utilizzati non appena domesticati per trainare gli aratri, ma anche banalmente per trainare i carri da guerra, che diventarono i carri armati dell'antichità. Abbiamo nella memoria, nella mente, questi film ambientati nell'antichità con questi carri da guerra che travolgono i nemici. L'altra fonte di energia a cui ricorsero i nostri antenati era sicuramente la legna. Cominciarono a utilizzare la legna sia per cucinare sia anche per modificare l'ambiente che li circondava, sia per lo stesso tempo per modificare la materia. La legna serviva a alimentare i forni con cui furono messe a punto le prime forme di metallurgia, la legna serviva per rendere più resistente il legno con tecniche particolari in cui si bruciavano le punte per renderle più resistenti. Quindi c'era un approccio alla natura in cui l'uomo, l'essere umano, si confrontava con ciò che lo circondava e cercava di utilizzarlo al medio. La domanda che ci siamo posti un po' io e Federico, io sono uno storico medioevista e quindi sono molto abituato a ragionare in termini eurocentrici o barra mediterranei, Federico ha uno sguardo più ampio. Abbiamo cominciato un po' a interrogarci, ma questi modi di accedere all'energia erano dello stesso tipo ovunque, oppure possiamo immaginare un mondo e un approccio energetico più complesso anche nell'antichità e nel medioevo. dunque riprendo, continuo io il discorso dove si è fermato Roberto, intanto vi saluto tutti e sono stato presentato giustamente in una delle mie principali attività che è quella di giornalista globale. Ho però anche prodotto tanti libri di storia, alcuni di voi avranno letto magari le linee rosse o quando inizia la nostra storia, tra l'altro tutti usciti da Mondadori. Questo lo dico perché da tempo uso le letture di storia, gli studi di storia anche come strumenti per decifrare il presente. Ho una vera passione per la storia, sono convinto come Cicerone che la storia sia maestra di vita. E lo dico questo proprio a proposito del tema che affrontiamo oggi, l'energia, perché noi siamo impegnati in una transizione energetica, una nuova transizione energetica e i programmi di insegnamento, così ci dice il Ministero, così ci dice l'Unione Europea, devono abbracciare fino in fondo questa grande sfida contemporanea, una sfida mondiale, la transizione verso un'economia meno carbonica. Ci sono state altre transizioni energetiche nella storia umana, le vere e proprie transizioni energetiche sono tutte relativamente recenti, quella dal legno che menzionava Roberto al carbone coincide con la prima rivoluzione industriale e poi c'è la transizione energetica dal carbone al petrolio, ancora più recente. Questa accade soprattutto tra la prima e la seconda guerra mondiale. Le transizioni energetiche sono molto interessanti, sono dei momenti della storia umana importantissimi che segnano proprio il passaggio da un'epoca all'altra. Noi siamo in una di queste. È tanto più importante, poiché abbiamo questa sfida da affrontare, che i nostri giovani siano allenati, siano attrezzati ad affrontare nel modo giusto, quindi evitando la cultura dell'apocalisse che è troppo presente nel nostro tempo, annunciare, anzi gridare, urlare che c'è la fine del mondo dietro l'angolo, non aiuta i giovani a capire le sfide del presente e anche, e qui vengo al tema della storia antica, una visione romantica del passato umano è profondamente diseducativa. L'idea che in fondo noi dovremmo ritornare a un passato in cui l'umanità sopravviveva con delle forme di consumo energetico più pure, più ambientaliste, è una sciocchezza fenomenale. Non ci aiuta a capire perché siamo arrivati fin qui e come ci siamo arrivati. Allora per gran parte della sua storia l'umanità ha dovuto combattere contro la fame e contro la morte precoce. Per tantissimo, per la massima parte della storia umana morivamo alla nascita, morivamo da bambini, morivamo giovanissimi e la popolazione umana era, c'era un controllo delle nascite molto crudele, molto feroce, molto ingiusto, spietato, che era legato alla mancanza di cibo e la mancanza di cibo era legata alla mancanza di energia. Il salto di produzione agricola che ci consente oggi di vivere in 8 miliardi sul pianeta è legato proprio a delle transizioni energetiche. Quella che ha ricordato Roberto, la prima, primordiale, fondamentale, come un primo passaggio è aggiungere ai muscoli dell'essere umano i muscoli dell'animale, l'addomesticamento degli animali, sicuramente ci ha aiutato, ma poi in periodi molto molto più recenti la meccanizzazione e l'uso di fertilizzanti agricoli che sono tutti derivati dal petrolio. Teniamolo sempre presente, anche quando dobbiamo parlare di storia antichissima o addirittura di preistoria, ricordiamoci sempre quali erano allora i vincoli. Avevamo gli stessi problemi di oggi, la domanda che faceva Roberto, che faceva anche Laura, l'umanità aveva gli stessi problemi di oggi, ma non avevamo le risposte, le soluzioni a quei problemi. Anche la scoperta che potevamo usare il legno come il legname, come fonte di energia, ha risolto solo una piccolissima parte dei nostri problemi energetici. l'invenzione dei primi mulini, poi magari ci torneremo. Sono dei piccoli, piccolissimi passi, ma per grandissima parte della storia umana i progressi nella nostra produttività, in particolare nella produttività agricola, sono stati quasi impercettibili. Pensate che la fertilità di un campo coltivato di cereali all'epoca dell'impero romano è rimasta pressoché uguale fino all'inizio del Novecento, finché non arrivano il trattore e i fertilizzanti. E allora lì improvvisamente il mondo, grazie a delle transizioni energetiche, che sono anche transizioni di produttività agricola, fa un balzo in un'epoca completamente nuova. Su questo punto concludo con una battuta, una metafora, anzi che prendo a prestito da un grande agronomo italiano, Antonio Pascale, che dice che per gran parte della storia dell'umanità siamo vissuti nell'epoca di Pinocchio, una storia che tutti conoscono, dove una costante che accomune ai personaggi è la fame. Tutti hanno fame a Pinocchio. Siamo passati dall'era di Pinocchio in pochissimo tempo all'era di Masterchef. Ecco, questo è il condensato di transizioni energetiche che ci hanno dato un mondo molto migliore. Quindi attenzione a non educare le nuove generazioni a una assurda, irrealistica nostalgia dei bei tempi andati. Beh, bei tempi andati, come sappiamo sempre quando studiamo la storia, io dico sempre che la storia è molto bella, leggerla sui libri è sempre più complicato doverla vivere in prima persona e per i nostri antenati era così. Un dato su cui ci confrontiamo nel momento in cui parliamo di fonti energetiche nell'antichità e come ha detto Federico Rampini, Federico, la scarsità di queste risorse energetiche, l'incapacità di utilizzarle e non è che i nostri antenati non facessero di tutto per accappararsi queste risorse energetiche. Noi sappiamo dalle fonti che una città come Roma in epoca imperiale consumava enormi quantità di legname per il riscaldamento, prima di tutto sappiamo i famosi complessi termali dell'antica Roma venivano alimentati con il fuoco a legna per le costruzioni e per tutto. Sappiamo che i romani dovevano fare i conti con la scarsità di legname e molti autori già dell'epoca romana sottolineavano come molte foreste stessero scomparendo e si dovesse andare a prendere legname in terre meno sfruttate, per esempio nei Balcani. Quindi la ricerca di nuove risorse energetiche, di nuove risorse era alla base anche dell'espansionismo dei popoli antichi, in particolare dei romani, così come l'altra fonte di energia, come abbiamo detto era la massa muscolare, gli uomini dovevano lavorare, spingere le macine, fare tutte quelle operazioni di fatica che oggi noi facciamo fare alle macchine. C'è tutto il tema dello schiavismo nel mondo antico, della schiavitù nel mondo antico che si collega a questa necessità. Noi siamo spesso abituati a considerare l'istituzione della schiavitù come un rapporto terribile come un rapporto terribile in cui alcuni esseri umani erano considerati proprietà di altri esseri umani, ma dietro a questo sistema terrificante c'era anche la necessità di società che non avevano altro mezzo per procurarsi le risorse che consideravano veramente gli schiavi come fonte di energia, fonte di fatica, fonte di lavoro. Ieri per esempio parlando con Federico in preparazione a questo incontro mi interrogavo se questo utilizzo della mano d'opera servile fosse una dinamica solamente occidentale dell'epoca romana, greca. Mi sono interrogato se succedesse lo stesso anche presso altre civiltà perché nel nostro libro noi parliamo ampiamente della civiltà indiana, della civiltà cinese e dell'allarghiamo lo sguardo verso l'Oriente. Però devo dire che questa cosa mi sfuggiva. Allora ho chiesto a Federico di illuminarmi un po' su questo tema. È un tema molto importante quello dello schiavismo, come hai già accennato tu Roberto, anche dal punto di vista energetico. Dunque intanto rispondo alla tua domanda. No, lo schiavismo non lo abbiamo inventato noi, lo schiavismo purtroppo è una piaga dell'umanità intera. Lo praticavano tutti gli imperi africani molto molto prima che l'uomo bianco apparisse in Africa. Esisteva nelle civiltà precolombiane nelle Americhe, anche lì molto prima che arrivasse un uomo bianco a toccare il suolo delle Americhe. Ed esisteva in varie forme anche in Asia, naturalmente nell'Asia vicina, nel quello che oggi chiamiamo il Medio Oriente, l'impero persiano, faceva ampio uso di schiavi. Anzi, il fatto che fossero spesso schiavi i militari, i soldati dell'impero persiano, fu interpretato dai greci come un segno di inferiorità della loro civiltà e superiorità invece delle città greche, nelle guerre greco-persiane. Spostandoci più a Oriente, la Cina ha sempre avuto la schiavitù per debiti e l'India, se osserviamo con lucidità il sistema delle caste indiane, troviamo dei risultati che sono abbastanza analoghi perché nei mestieri più umili l'appartenenza a certe caste era come una condanna a svolgere quei mestieri, i mestieri più degradanti. Comunque, l'importanza del tema dello schiavismo e della schiavitù ai fini energetici è proprio quello che tu hai accennato, cioè finché era disponibile energia umana a bassissimo costo o addirittura gratuita perché gli schiavi potevano essere comprati oppure catturati attraverso guerre, razzie. Non c'era un incentivo, uno stimolo, una pressione sufficiente a innovare, a cercare delle innovazioni tecnologiche che consentissero di attingere ad altre forme di energia. Era troppo facile usare l'energia disponibile che era l'energia degli schiavi, quindi questo sicuramente per gran parte della storia umana ha rallentato la ricerca di fonti energetiche alternative. Mentre Federico parlava sono andato a ricercare nei miei appunti qualche dato e stavo leggendo che secondo calcoli abbastanza approssimativi durante l'epoca romana per riscaldare un'abitazione a Roma si consumavano intorno ai 500 kg di legna all'anno per ogni abitazione e che per cucinare ogni romano consumava circa un chilo di legna al giorno. Quindi potete immaginare Roma al massimo del suo splendore superava il milione di abitanti, potete immaginare le enormi quantità di legna di cui avevano bisogno i romani per vivere la loro vita quotidiana. Rimane ad un certo punto sorprendente appunto la mancanza di ricorso a tecnologie diverse o la ricerca di soluzioni diverse che permettessero di sfruttare magari quelle fonti di energia che comunque i romani e anche gli antichi conoscevano. Noi sappiamo che gli scienziati di epoca ellenistica avevano fatto degli esperimenti per l'utilizzo del vapore, conoscevano le proprietà, la forza dell'acqua, la forza del vento, avevano determinate conoscenze, conoscevano la ruota idraulica però non l'hanno mai utilizzata fino in fondo, queste innovazioni tecnologiche si diffondono più avanti. Se non ricordo male Federico però in altri luoghi, per esempio in Persia, queste innovazioni erano molto più diffuse già in epoca antica e medievale, o sbaglio? Sì, questo infatti conferma che l'approccio che abbiamo usato nel nostro manuale è un approccio aggiornato. Il nostro non è un manuale eurocentrico, non consideriamo che l'Occidente sia l'ombelico del mondo e tantomeno all'avanguardia in tutta la storia umana. Spesso le grandi innovazioni sono nate altrove e per quanto riguarda l'energia noi abbiamo, credo, le prove che i primi mulini ad acqua siano nati in Cina, proprio all'inizio, nel primo secolo dopo Cristo, per usare il nostro calendario. Ci sono tracce di mulini ad acqua in Cina. Anche la Persia aveva una cultura dell'acqua molto avanzata e quindi anche canalizzazioni, il modo di convogliare l'acqua anche ai fini dell'irrigazione agricola. Era molto avanzato nella civiltà persiana. Detto questo, eravamo certamente poco ambientalisti anche allora. Tu hai ricordato l'uso del legno a Roma, sempre per vaccinare i nostri giovani dall'idea balzana che una transizione energetica verso il futuro sia come un ritorno al passato. Il passato non era affatto ambientalista, l'uso del legno è quanto di meno rispettoso dell'ecosistema. Il legno inquina moltissimo, ha parità di produzione di energia, l'uso del legname emette molto più CO2 e quel tipo di consumo di legno su quella scala dimensionale che tu hai ricordato per gli abitanti dell'antica Roma produceva danni da deforestazione micidiali. Sono intere civiltà del passato che sono scomparse per aver distrutto l'ecosistema in cui abitavano e la deforestazione tipicamente era legata anche all'uso del legname per l'energia. Quindi questo è importante ricordare che il legno, ritornare a bruciare il legno nei caminetti come qualcuno fa nelle case di montagna, nelle case di campagna, non è una forma di consumo energetico ambientalista, tutt'altro. Il carbone, infatti la prima transizione energetica davvero importante, la prima rivoluzione energetica che è legata alla rivoluzione industriale, il passaggio dal legno al carbone è il passaggio da un'energia meno efficiente e più inquinante ad un'energia, il carbone, che in confronto al legno è più efficiente e perfino relativamente meno inquinante, perché è più densa come fonte energetica. Voglio fare solo un'ultima osservazione. A conferma che gli antichi comunque conoscevano tante tante forme di energia, ricordiamoci sempre che alcuni mezzi di trasporto, anche antichissimi, sfruttavano a meraviglia le energie rinnovabili. Il trasporto navale che pratichiamo dai tempi delle piroghe con cui probabilmente la specie umana ha cominciato a popolare, isole del sud-est asiatico, è arrivata nelle Americhe, sfruttavamo le correnti e il vento. Quindi l'energia rinnovabile, noi la conoscevamo, non avevamo le tecnologie per sfruttarla su scala adeguata. E poi come hai detto tu prima, era più semplice far muovere le navi dai rematori, soprattutto quando si era in battaglia, costavano meno. Mentre scorrevo le slide con alcune pagine del nostro libro, mi sono ricordato di un tema che è necessario affrontare, che è quello delle politiche energetiche. Noi siamo sempre, nella nostra attualità ne parliamo tantissimo, dobbiamo immaginare un altro aspetto del mondo antico e del mondo medioevale che non esisteva un'idea di politica energetica. Nessuno Stato antico aveva un'idea che bisognasse accappararsi le risorse in maniera programmatica come lo possiamo immaginare noi, soprattutto che le risorse dovessero essere risparmiate o comunque conservate o riciclate o riutilizzate come spesso noi usiamo immaginare oggi o pensare oggi. L'idea di politica energetica è qualcosa di molto moderno. Gli Stati antichi utilizzavano fino in fondo tutto ciò che li circondava, come ha detto Federico, anche in maniera spesso distruttiva e anche a volte contraria agli effetti che si volevano ottenere perché spesso e volentieri si tendeva a bruciare legna che magari non era adatta all'uso che se ne faceva come legna da ardere semplicemente perché era quella più vicina e quindi si bruciavano enormi quantità di legname senza ricorrere un legname più adeguato. Quindi questa idea della politica energetica è qualcosa di molto moderno, è un'idea che si è venuta formando negli ultimi 50 anni ed è un'idea su cui noi ragioniamo molto, però viene sempre da pensare se ci ragioniamo in maniera efficace e non ideologica. Questo uno degli esercizi che facciamo nel nostro manuale è il collegamento tra lo studio della storia e le sfide del tempo presente. Va fatto, è indispensabile, è richiesto dai programmi ed è utile e urgente farlo perché l'istruzione svolga pienamente la sua funzione. Tu hai detto giustamente che il concetto di politica energetica è un concetto contemporaneo, anche se nel passato, anche nel passato molto remoto, alcune guerre furono combattute anche per conquistare territori ricchi di legname. All'epoca non il petrolio, non l'uranio o il litio, però certamente alcuni territori che erano ricchi di foreste con legname utilizzabile per l'energia erano concupiti e furono all'origine di conflitti. Oggi, ecco, quello che dobbiamo affrontare oggi è un problema molto serio. Intanto hai usato il termine sicurezza, questo è esploso nell'attualità con la guerra in Ucraina, quando i paesi occidentali hanno colpito con delle sanzioni la Russia e quindi si sono privati di un grande fornitore di energie fossili, petrolio e gas e anche un po' di carbone. Quindi a fini di sicurezza per non rischiare di dover chiudere le nostre fabbriche, chiudere le nostre agricolture senza fertilizzanti, vivere al freddo e al gelo, non poterci riscaldare, non poter usare mezzi di trasporto. Abbiamo dovuto cercare altrove materie prime energetiche con cui garantire la nostra sicurezza e c'è stata una torsione geografica, geoeconomica, geopolitica da est verso sud, cioè parlando dell'Italia, venuto a meno la fonte di approvvigionamento dalla Russia, abbiamo dovuto prestare molta più attenzione a Africa e Medio Oriente, che è un po' un ritorno al passato, perché prima del 1973, prima di un'altra guerra medio orientale, la guerra dello Yom Kippur, che provocò un embargo petrolifero contro l'Occidente e un aumento smisurato dei prezzi del petrolio. Noi già allora ricevevamo la maggior parte della nostra energia fossile da Nord Africa e Medio Oriente, poi c'eravamo invece rivolti alla Russia, adesso ritorniamo alla puntata precedente. Quindi c'è questo aspetto sicurezza, però c'è anche l'aspetto invece che evocavo all'inizio, transizione verso un'economia decarbonizzata, fondata prevalentemente su fonti rinnovabili e di nuovo però la nostra sicurezza, la nostra sopravvivenza in un'economia meno carbonica dipenderà in parte consistente dall'Africa, dove si trovano il 30% di tutte le materie prime e metalli necessari per le energie rinnovabili, tipo appunto il litio e tutta una serie di altri minerali e metalli che tra l'altro elenchiamo nel manuale, di cui l'Africa è molto ricca, che vanno estratti, vanno poi trasformati. Questa è una delle grandi sfide che fanno sì che la nostra attenzione verso il sud, verso il Medio Oriente e soprattutto verso l'Africa dovrà aumentare nei prossimi anni. È un po' un ritorno al passato, un passato mediterraneo che chiaramente è al centro di un bienio di storia come il nostro. È un ritorno al passato con delle prospettive future, perché nel nostro libro noi raccontiamo chiaramente il rapporto del mondo europeo e in particolare della penisola italiana con il Mediterraneo, il Medio Oriente, con tutte le vicende che sono previste dai programmi ministeriali, ma cerchiamo anche di lanciare degli agganci verso il presente o di interpretare anche in maniera più ampia determinati movimenti, determinati rapporti, i legami commerciali che collegavano il Mediterraneo con il resto del continente euro-asiatico. Secondo me è interessante, il nostro libro lo facciamo dal punto di vista storico, analizzare il rapporto della penisola italiana con il Mediterraneo e particolarmente con il continente africano. Noi ne parliamo abbastanza, ci sono molti approfondimenti nel libro, però mi piacerebbe anche Federico, che ha dedicato un libro recentemente a questo tema, poi ci aiutasse a comprendere perché il continente africano è così importante non solo per l'Europa ma soprattutto per l'Italia. Certo, certo sì, il mio ultimo libro si intitola La speranza africana ed è un libro un po' controcorrente a partire dal titolo perché di solito dell'Africa in Italia si parla solo in termini tragici, compassionevoli, apocalittici, se ne parla come l'origine di un esodo biblico di popolazioni verso nord, un buco nero di sciagure, guerre civili, fame. In realtà l'Africa intanto non si presta alle semplificazioni, è un continente che è più grande di Stati Uniti, Europa e Cina messi insieme. 54 nazioni, 54 stati sovrani con delle realtà diversificatissime tra di loro ed è una terra che per gli italiani oggi rappresenta anche delle opportunità, non solo delle minacce, dei pericoli, tante opportunità. Tant'è vero che le aziende italiane stanno ritornando a interessarsi dell'Africa, c'è perfino una sorta di emigrazione alla rovescia, c'è un flusso di giovani italiani, però adesso è ancora abbastanza contenuto, però giovani talenti professionali italiani che stanno guardando all'Africa come un luogo dove andare a fare delle esperienze lavorative e non solo nel campo tradizionale delle ONG umanitarie, ma anche nel mondo dell'imprenditoria. Perché l'Africa tra l'altro è ricca di talenti imprenditoriali. Pensate che quasi un terzo dei consumatori africani, 400 milioni, usano quotidianamente sistemi di pagamento digitale molto più avanzati dei nostri, pagano col telefonino. Tutto questo perché ci sono degli imprenditori locali africani che hanno inventato delle app per pagamento digitale avanzatissime. C'è un mondo, viene stimato a 330 milioni la classe medio-alta africana che ha un potere di consumo di tipo moderno, quasi occidentale. Questo solo per scombussolare alcuni dei luoghi comuni sull'Africa come buco nero di miseria e disperazione, anche quello che sta accadendo dal punto di vista della natalità, della demografia. Ci sono delle evoluzioni molto più positive di quanto crediamo. Quello che ci interpella, intanto il Mediterraneo dobbiamo considerarlo sempre di più come un mare che ci unisce, non ci divide dall'Africa. Ed è quella lì la terra di frontiera dove dobbiamo andare a cercare il nostro futuro dal punto di vista energetico. Senza il cobalto del Congo non si fanno batterie elettriche. Il futuro è appeso alle batterie. Senza le batterie la transizione verso un uso di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili non va avanti. Non riusciamo a progredire su quel fronte. Quindi quella è una delle ragioni. E non dobbiamo pensare solo in termini di saccheggio di risorse naturali. Intanto perché questo è un atteggiamento che tradisce una nuova forma di colonialismo. Per pensare che l'Africa è sempre vittima, è sempre preda di manovre altrui. Mentre l'Africa ha delle classi dirigenti, buone o cattive, c'è di tutto. Ha delle classi dirigenti che sanno quello che fanno, che sono perfettamente consapevoli delle scelte e qualche volta si mettono anche in vendita all'asta sfruttando la competizione tra le potenze straniere. Ma questo non significa che siano delle prede. È un altro tipo di gioco. L'Africa interessa tutti, così come la Cina, se ne è parlato tantissimo dell'avanzata cinese, ma c'è l'India che è molto presente con le sue aziende in Africa, l'Arabia Saudita, la Turchia. Quindi noi non dobbiamo lasciarci perdere questa occasione. Dobbiamo pensare il Mediterraneo, il Mare Nostrum, proprio come lo pensavano gli antichi romani. Cioè un tessuto connettivo, un ponte verso delle terre vicine. Ai tempi degli antichi romani era soprattutto il Nord Africa un granaio. Chiaramente le condizioni climatiche e quindi anche di fertilità erano diverse da oggi. Oggi sono altre le cose che ci interessano, ma in uno spirito di cooperazione, di un interesse reciproco con gli africani, gran parte del nostro futuro si gioca lì. Adesso andiamo a concludere per lasciare poi spazio a qualche domanda. Ci piace pensare che questa nostra conversazione sia servita un po' a cancellare qualche stereotipo sul bel tempo andato, sull'idea che un tempo le cose fossero più semplici, che si vivesse in Eden bucolico, in cui sfruttare facilmente le risorse naturali. Quello che ci racconta la storia è che i nostri antenati avevano scarsità di risorse, difficoltà ad utilizzarle, un bisogno di reperirle in qualsiasi modo e spesso una scarsissima attenzione al loro risparmio e anche ai danni che potevano fare all'ambiente. A questo si aggiungevano dei grandi limiti tecnologici che non consentivano di sfruttare fino in fondo quelli che erano le risorse che la natura metteva a disposizione. Questo ci deve non certo far pensare di poter sfruttare le risorse che abbiamo intorno a noi in maniera indiscriminata, ma è un insegnamento che ci viene dalla storia. I nostri antenati non avevano la capacità di capire fino in fondo quello che facevano all'ambiente e non utilizzavano al meglio le risorse. Noi abbiamo delle conoscenze, delle capacità e abbiamo anche l'esperienza che ci viene data dalla storia che ci aiuta a capire come utilizzare al meglio tutto ciò che abbiamo intorno a noi. Non so se ti aspettavi che io proseguissi. No, forse è. Credo che sia il momento delle domande, per quello che mi taccio. Stavo aspettando appunto adesso arriverà la una. Sto guardando se ne... Ecco, ecco. L'audio. Ecco. Eccoci. Allora, in attesa che arrivino altre domande, perché ovviamente c'è un professore che fa una considerazione condivisibilissima sulla scassità delle conoscenze geografiche dei ragazzi che penserebbero che Federico, che è collegato da New York, è nella capitale degli Stati Uniti d'America, questa è la cosa più... Però, 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 ti fermo subito, perché molti new yorkesi pensano che New York dovrebbe essere la capitale. C'è un po' una dinamica, un po' come... Roma-Milano. Da voi c'è Milano-Roma, no? Esatto. Cioè, la capitale è Washington, però New York, in quanto è la metropoli più popolosa degli Stati Uniti e anche economicamente la capitale degli Stati Uniti, qualche volta si comporta come se fosse la capitale, sì. A tutti gli effetti, certo. In attesa vi invito, professoresse e professori, a passare le vostre domande agli autori che sono stati veramente progli di spunti e che poi amano anche nel libro di testo scompostolare i luoghi comuni, come ha detto Federico poco fa. Volevo fare ai nostri autori, cioè dare ai nostri autori l'occasione di condividere con voi alcuni degli argomenti di cui abbiamo parlato in questo ultimo anno, in particolare durante la lavorazione del manuale. Per esempio, abbiamo parlato, collegato a questo tema delle risorse, del perché magari venivano o non venivano sfruttate, ma ci chiedevamo, ovviamente la risposta l'avevamo, ma insomma, ai ragazzi pensiamo che fosse interessante il tema del carbone e del petrolio. Cioè, gli antichi conoscevano il carbone e il petrolio? Sì, no? Se lo conoscevano, nel Medioevo anche, se lo conoscevano, perché non lo hanno usato? No, questa era una delle domande che ci facevamo. Vado io, Federico, vai tu. Ma intanto posso cominciare con ricordare che sì, in genere conoscevano molte cose anche quando non le utilizzavano, come le sappiamo utilizzare oggi. Il carbone, ci sono dei luoghi della terra dove il carbone si trova anche in superficie, senza dover scavare in profondità nelle miniere. La forma più diffusa è la cosiddetta carbonella, che non è esattamente il carbone usato in una centrale elettrica o in un alto forno siderurgico. Quindi la carbonella è a metà strada tra legname e il carbone fossile. Il petrolio, ci sono delle zone del mondo dove galleggia in superficie il petrolio, non c'è bisogno di trivellare. E quindi, per esempio, io ricordo di una delle mie letture favorite, che è il milione di Marco Polo, a un certo punto ci si imbatte in dei fuochi artificiali che in Estremo Oriente, in Cina, vengono accesi usando delle forme abbastanza grezze di petrolio, una specie di pece liquida ad alto contenuto petrolifero. Quindi sì, spesso queste energie le conoscevamo anche molti, molti secoli fa, però non avevamo sviluppato delle tecnologie in grado di sfruttarne pienamente il potenziale al servizio della produzione, dell'agricoltura. Poi ricordo appunto tutte le forme, questo è importante per i ragazzi di oggi proprio perché non scivolino verso un ambientalismo di tipo adolescenziale romantico. Ricordiamoci che gli usi che siamo capaci di fare oggi delle energie fossili sono molto più ubiqui e diffusi di quanto crediamo. Se io entro in una sala operatoria, in un ospedale, sono circondato di materiali plastici. La mia sopravvivenza in una sala operatoria anche per motivi di antisettici, di evitare le infezioni è appesa all'uso di plastiche che sono tutte derivate dal petrolio. Quindi la transizione verso un'economia sostenibile, non carbonica, è urgente, essenziale, impellente, però non significa che riusciremo ad abbandonare le energie fossili tutte e tutte in un colpo perché altrimenti dovremmo regredire a quello che è stato per grandissima parte della storia umana una realtà atroce in cui la longevità umana arrivava a stento ai 40 anni, a stento quindi morivamo giovanissimi perché non avevamo da mangiare e non avevamo le cure mediche e tutto quello che dalla rivoluzione industriale in poi ci ha consentito di raddoppiare la longevità media. Roberto voglio aggiungere qualcosa? No, più o meno come ha spiegato Federico non c'erano le tecnologie per sfruttare al meglio il carbone in superficie c'era in alcune zone e non c'era in altre il petrolio in superficie era ancora meno diffuso e poi come ha detto giustamente Federico prima per buona parte dell'epoca antica la possibilità di utilizzare schiavi a basso costo non imponeva che si dovessero trovare soluzioni alternative e per l'epoca medioevale c'era la questione che a un certo punto la popolazione era comunque ridotta rispetto agli spazi ambientali poteva comunque fare ricorso al legname non c'era bisogno di fare quel passaggio in più poi c'è tutto il tema della mentalità scientifica e dell'affermarsi della scienza moderna che è il frutto di un percorso che gli esseri umani hanno fatto e che non è casuale avviene a un certo punto della storia in determinate nazioni è il frutto di un percorso non banale per quanto noi possiamo esaltare gli scienziati dell'ellenismo facevano degli esperimenti che erano dei trucchi da prestigiatori ma non avevano nessuna intenzione di applicarlo su scala industriale perché banalmente non faceva parte anche della loro mentalità bastava ricorrere agli schiavi e avevano risolto il problema era tutto risolto i romani hanno costruito dei mulini ad acqua in Gallia sono state trovate i resti ma costruire un mulino di quel tipo aveva dei costi economici e richiedeva una manutenzione tale che 50 schiavi lo risolvevano molto più rapidamente il problema infatti c'è poi una domanda ancora che potrebbe essere interessante condividere con il nostro pubblico però c'è una professoressa che chiede scusate l'idrogeno è stato dimenticato quando diciamo fonti rinnovabili attenzione ecco queste sono tutte cose che noi spieghiamo nel manuale il concetto di fonti rinnovabili è al tempo stesso ampio ed elastico non sono solo le due che vengono in mente subito a tutti che sono solare e eolico queste diciamo sono le fonti rinnovabili di cui si parla di più perché sono quelle che in epoca recentissima hanno avuto una evoluzione tecnologica un abbassamento dei costi che ha innescato una impennata nel loro utilizzo quindi una forte crescita però noi abbiamo una fonte rinnovabile ben più antica relativamente si fa per dire antica l'Italia è ricca di centrali idroelettriche l'idroelettrico è una fonte rinnovabile ha dei limiti semplicemente nella conformazione geofisica del paesaggio c'è un numero limitato di dighe che possiamo costruire per trattenere l'acqua dei fiumi e poi usare la forza di gravità per far funzionare delle dinamo e alimentare centrali idroelettriche però l'idroelettrico è a pieno titolo una fonte rinnovabile l'idrogeno è una delle energie su cui si sta investendo ci sono due tipi di idrogeno c'è l'idrogeno perché l'idrogeno va diciamo così fabbricato va prodotto attraverso dei processi chimici se in questi processi si usano energie fossili allora è un idrogeno sporco tra virgolette viene chiamato a volte in gergo tecnico l'idrogeno grigio l'idrogeno azzurro o verde è quello prodotto con energia solare o eolica e allora sì è un'energia non solo rinnovabile ma pulitissima perché bruciando idrogeno si genera vapore acqueo niente CO2 infine ci sono degli scienziati dei paesi interi delle superpotenze come la Cina che considerano a pieno titolo il nucleare una energia rinnovabile questo è un tema controverso in Italia ci fu un referendum che ha vietato il nucleare ci sono in questo momento in atto dei ripensamenti per un recupero del nucleare anche in paesi che l'avevano abbandonato come l'Italia di recente anche la Germania ha abbandonato il nucleare il Giappone lo ha recuperato il Giappone ha rilanciato il nucleare nonostante l'incidente di Fukushima comunque ecco è importante parlare della Cina perché è la potenza numero uno al mondo in termini di generazione di anidride carbonica di CO2 è la massima produttrice di emissioni carboniche la Cina che investe moltissimo in tutte le forme di energie la Cina continua a investire nelle energie rinnovabili è numero uno mondiale nel solare ma continua anche a costruire centrali elettriche a carbone continua a costruire centrali elettriche nucleari tantissime e la posizione ufficiale del governo cinese che il nucleare è un'energia rinnovabile grazie grazie Federico se Roberto non ha nulla da aggiungere forse vuoi dire qualcosa su questo sull'idrogeno no sull'idrogeno ne trattiamo nel volume ne trattiamo un po' come trattiamo tutte le fonti di energia in maniera critica nel senso non critica in senso negativo ponendoci delle domande non siamo innamorati dell'idrogeno come non siamo innamorati dell'eolico a priori però vorrei approfittare della presenza di Federico per parlare un attimo della Coppa 28 che si è tenuta poco fa a Dubai ovviamente non era la prima di questo genere di conferenze tant'è che si chiama Coppa 28 era incentrata sul superamento delle risorse fossili e quali novità sono emesse rispetto a quello che era il panorama prima di Coppa 28 sul tema delle risorse fossili dunque non sono sicuro che il termine novità si applichi alla Coppa 28 di Dubai nel senso che è una Coppa che io considero una tappa in continuità con un processo che si è aperto ormai da molti anni possiamo farlo risalire alla conferenza di Rio possiamo far risalire agli accordi di Parigi del 2015 sul riduzione la lotta all'emergenza climatica in Italia c'è stato un atteggiamento molto negativo sulla Coppa 28 per il semplice fatto che ad ospitarla è Dubai uno degli Emirati Arabi Uniti quindi una zona del mondo che associamo alle energie fossili energie fossili inquinanti fonti di CO2 quindi il nemico per eccellenza ora a parte il fatto che Dubai stessa in realtà non ha petrolio Dubai è un caso molto interessante di una città che si è sviluppata puntando su altre risorse la logistica perfino il turismo il petrolio è lì vicino Abu Dhabi la capitale degli Emirati Arabi uniti a tantissimo petrolio comunque non c'è dubbio capisco lo scetticismo di chi si è interrogato sull'apparente contraddizione di una Copp 28 una conferenza sul cambiamento climatico ospitata dai Emirati Arabi Uniti che sono ricchi perché vendono petrolio e gas naturale in realtà questa parte del mondo io sono reduce anche da un lungo viaggio in Arabia Saudita e nel Qatar l'Arabia Saudita è la più grande esportatrice mondiale di petrolio e il Qatar è uno dei massimi esportatori mondiali di gas naturale questi sono degli attori intanto che rimarranno essenziali per molto tempo per le ragioni che ricordavo prima cioè non è che di colpo noi faremo a meno delle energie fossili metà della popolazione del pianeta morirebbe di fame oltre che di freddo di fame prima di tutto perché i fertilizzanti agricoli che ci sfamano quasi tutti 8 miliardi di persone vengono dal petrolio senza quelli crollano i raccolti agricoli e la fame diventa come nel medioevo il controllo delle nascite più spietato e più crudele che si possa immaginare quindi non è che improvvisamente possiamo girare le spalle a una parte del mondo come il Golfo Arabico Persico quella zona che sta appunto che racchiude anche Dubai gli Emirati il Qatar il Kuwait e soprattutto l'Arabia Saudita e l'Iran anche l'Iran rimane grosso produttore poi va detto che le nuove classi dirigenti del Medio Oriente soprattutto di questi paesi stanno investendo moltissimo nelle energie rinnovabili io in Arabia Saudita ho visitato più centrali solari di quante ne abbia viste in Europa loro ci credono cioè loro capiscono che le energie fossili hanno dei tempi contati non sarà rapidissimo l'abbandono ma a un certo momento sicuramente si ridurrà molto il ruolo delle energie fossili stanno investendo tanto ho visitato in Arabia Saudita degli impianti di desalinizzazione dell'acqua marina altro tema molto importante perché il cambiamento climatico riguarda anche siccità desertificazione impianti di desalinizzazione che usano l'energia solare quindi attenzione a non considerare sempre che quelli lì sono i cattivi che li dobbiamo sconfiggere per una transizione energetica quelli devono diventare i nostri partner perché hanno tra l'altro risorse finanziarie importanti da investire nelle rinnovabili e qui tornando alla nostra Italia c'è una professoressa che si riallaccia al discorso sulla carbonella che affiorava dal terreno che facevamo poco fa e ci ricorda che al sud la carbonella è stratta dalle scorie del legname che viene poi riutilizzata nei forni a legna nei termocamini quindi rinnovabilissima decisamente anche per l'acqua calda e poi arriva un commento va bene questo più più di tipo politico anche se vogliamo sull'intelligenza degli arabi ma questo lo allora direi che siamo arrivati forse alla fine del tempo che ci ha concesso non so se i nostri autori vogliono aggiungere ancora un po' particolare vogliono raccontare ancora qualcosa oppure se rimandiamo direttamente al prossimo appuntamento la cosa che voglio dire è che il prossimo appuntamento si collega direttamente a quello che abbiamo trattato oggi oggi abbiamo parlato di temi energetici ma questo si collega al tema della tecnologia un tema anche questo fondamentale per il passato ma ancora più importante per il presente oggi noi abbiamo delle tecnologie straordinarie vediamo se abbiamo le capacità di utilizzarle fino in fondo nella maniera migliore per il benessere di tutti quindi l'invito è proprio a considerare questo percorso che facciamo un po' in maniera conseguenziale oggi abbiamo parlato di energia e tecnologia la prossima volta parleremo di tecnologia di energia ancora e anche già di economia necessariamente che lancia poi alla nostra ultima chiacchierata esatto io torno torno solo un attimo sul tema del legname sul tema del legname per ricordare che ancora oggi in Africa molti abitanti poveri dell'Africa ce ne è ancora tanti di poveri anche se io cerco di non racchiudere l'Africa negli stereotipi però esiste ancora una parte consistente che non ha accesso all'energia elettrica si scaldano con il legname lo bruciano all'interno di capanne ho visitato ancora di recente ero in Tanzania lo bruciano e lo usano sia per il riscaldamento perché può fare molto freddo anche in Africa sia per cuocere il cibo questo significa altissima incidenza di malattie respiratorie perché vivono nel fumo vivono in capanne dove si respira fumo dalla mattina alla sera e morti per incendi perché ogni tanto purtroppo tra l'altro i muri delle chiamiamoli così delle capanne sono materiale che è un misto di terra e esterco altamente infiammabile quando riusciamo a costruire una centrale elettrica anche a carbone all'inizio il carbone è la materia prima meno costosa che c'è e gli importiamo l'energia elettrica riduciamo paradossalmente anche l'inquinamento e la mortalità quindi questo questo per ricordare che la transizione energetica deve conoscere delle tappe ecco si chiama transizione anziché salto perché è una transizione è un viaggio verso un futuro diverso migliore ma non illudiamoci che tutto accada d'incanto per magia in modo velocissimo giustissimo allora io ringrazio innanzitutto i nostri autori per questa chiacchierata interessante stimolante come sempre è sempre un piacere e ringrazio tutti voi che siete stati con noi in questa prima parte di questa chiacchierata vi aspettiamo quindi ancora più numerosi spero tra un mesetto il 20 di marzo vi ricordo alla stessa ora alle 4 e mezzo parleremo di tecnologia ancora buon pomeriggio e ancora grazie grazie mille arrivederci saluti dall'altra capitale degli Stati Uniti quella che vorrebbe essere la capitale io dall'altra capitale d'Italia perché sto a Milano infatti infatti siamo nelle due capitali arrivederci a Grazie per la visione!